Ciao a tutti, una piccola perfazione al video che state per vedere. È un video girato un anno e mezzo dopo il lompo. Maddalena aveva 5 anni, 5 anni o qualcosa, ancora non andava a scuola. E mi fa, papà, ci chiama il gioco del maestro che interroga la bambina che non ha studiato? Al che ho detto? Che gioco è Maddalena? Niente, tu mi interroghi, io non ho studiato e ti devo dire, devo fare in modo che tu non capisci che non è vero. Cioè, lei aveva 5 anni, non era mai stata a scuola e già studiava come fregare i maestri, i professori. Ottimo. Allora dico, maestri, professori, in bocca al lupo. Buona visione. Allora, capito, lei ha studiato? Sì, ho studiato un po' la notte, la mattina e un po' il pomeriggio. Vediamo subito se è vero. Allora, mi risponda alle domande. Mi parli di Cristoforo Colombo. Allora, Cristoforo Colombo... Allora, Cristoforo Colombo... Ha studiato? Ha studiato. Ah, forza, chi è Cristoforo Colombo? Che è la parte? Che faceva Cristoforo Colombo? Chi è Cristoforo Colombo? Ma non ha studiato allora? Sì! Allora, dimmi, parlami di Cristoforo Colombo, dai. Allora, praticamente, Cristoforo Colombo... Chi? Come si chiama? Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo? Sì. Eh, praticamente, Cristoforo Colombo... Eh, lavorava. Eh, sì, che lavoro faceva? Ha studiato, signorina? Sì. Le metto due, eh? Le metto un brutto voto. Ha studiato? Sì. Chi era Albert Einstein? Chi era? Cosa faceva? Facceva, raccoglieva le fiorelline. Bene. Poi di lavoro serviva bicchieri da mangiare. Albert Einstein? È sicura? Il cameriere? L'ho letto, sta proprio qua. L'ho letto. Va bene, mi fido. Mi fido, ha studiato bene. Va bene. L'ho letto. Non c'è problema, va bene. Io le metto un brutto voto. Signorina, mi dispiace. Ma non si fa così. Ha studiato? Dica la verità. Ha studiato ieri? Ho studiato. Ti ho detto. La mattina, il pomeriggio, un po' la notte. Ho letto bene, maestro. Hanno letto anche tutti gli altri come me, eh? Non è che solo io. Va bene, io mi fido. Eh. Sì. Allora. T erghm... Allora. Allora. Grazie a tutti.